Musica C'è stato il raise della ragazza, il raise suo e poi lei ha fatto all in. Che cosa l'hai fatto in quella mano? Comunque il flop, abbiamo visto il colore. Io ho una coppietta col cuore, quindi io l'ho fatto su una mano molto forte, speravo non avesse cuore e potesse lasciare la mano, quindi è andata male. Di certo non flatto, quindi vedo subito dove sono nel colpo e vuoi per mollare e perdere il minimo possibile. Giocare contro una ragazza che cosa significa? È più facile o più difficile? Completamente indifferente per me. Grazie per la visione!